Vabbè, andiamo. Wow! Oh wow wow! Eh, caramè questa! Dai! Muori! Dai! Easy! Voi, battuto! Ma... No, ma sono bot questi dai! Sono bot per forza! Ok! Vabbè, easy! Sì! Enemy team capture objective! Voglio provare questa! Vabbè! 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 Ah, dove sono i nemessi? Scusa! Cacchio Mannaggia Non fa tanto la pistola Pensavo Ok Lo stanno Ha una cosa dannissima questa Ok 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 Aiaia Chi è? Chi è? Ah Tutti eliminati? Così? Easy Insomma Con questo no? Ok Ok Ho due aree Dove stanno? Ma è scemo? Lo sento Lo sento Ok Quindi qua lo spawn No mi sbaglio sempre No vabbè No vabbè sono bot per forza L'ho sentito qua L'ho sentito qua E qui Vai L'hanno Distruttito tutti Ah no Hanno finito le vite Ok Ok Victory Eh la madonna C'è l'ho sentito qua C'è l'ho sentito qua Ah ok In base In base a certi Ok Ok Oh eeeh Cosa ho sbloccato Vabbè raga L'ho provato E Ditemi se all'inizio Combatto contro il bot Perché non ne ho idea E niente Ditemi se vi può piacere anche questo gioco Che volevo provarlo E Eccoci qua Ciao Adesso Adesso Alla prossima